Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova lezione di Excel Facile. Quella di oggi sarà una lezione un po' diversa dalle altre, anzi a dire il vero non sarà una vera lezione, ma cercherò di farvi vedere come Excel non solo è uno strumento essenziale per il vostro lavoro, ma come lo potete utilizzare anche nella vostra vita privata. Ormai ci siamo, ancora pochi giorni e finalmente inizieranno le vacanze, e quindi, se state pianificando un viaggio, vi sarete sicuramente fissati un budget che dovrà bastarvi per viaggio, alloggio, pranzi, divertimenti e quant'altro. E allora, perché non utilizzare Excel per essere sicuri che non stiate spendendo troppo? Vediamo come fare. Alcuni mesi fa avevo condiviso sulla pagina Facebook il link del sito Microsoft con i template di Excel da utilizzare online. Proviamo a usare uno di questi template, perfetto per gestire le spese delle vostre vacanze. Nella descrizione al video trovate il link. Vediamo come funziona. Ampriamo ovviamente il nostro browser, dobbiamo loggarci sul sito, qui in alto a destra clicchiamo su Accedi, inseriamo la nostra mail, dobbiamo loggarci con un account Outlook, quindi un account di Microsoft, se non lo avete, nessun problema, fate clic qui per crearne uno, clicchiamo su Accedi, perfetto. Ora, tra i modelli disponibili per Excel, perché possiamo vedere che Microsoft ci mette a disposizione anche dei modelli per PowerPoint o per Word, però fra quelli per Excel, che è il nostro caso, scegliamo questo, pianificazione e viaggio. Clicchiamo, clicchiamo su Apri in Excel Online, clicchiamo su Continua, attendiamo pochi istanti per il caricamento e possiamo vedere che Excel ci ha già preparato questo bellissimo layout per pianificare le nostre vacanze. Semplicemente modifichiamo qualche informazione, vacanze estive 2016, inseriamo il numero totale dei viaggiatori, per esempio 4, la durata del viaggio, ad esempio 10 giorni, e dopodiché qui sotto abbiamo tutti i costi divisi per categoria, quindi i costi relativi all'auto, i costi relativi all'aereo o al treno, dipende dal caso, i costi per i pranzi e le cene, i costi per l'alloggio e per i divertimenti. Possiamo scegliere se far rientrare questi costi e aggiungerli al costo totale del viaggio, oppure se non farli rientrare, in questo caso ovviamente il costo totale del viaggio e di conseguenza il costo per persona, quindi il costo totale diviso viaggiatori, si ricalcolerà in automatico. Una volta compilato lo potrete stampare, oppure potrete consultarlo da PC andando nella vostra area OneDrive, che trovate anche qui in alto, cliccando su OneDrive, qui avrete i vostri documenti e in questo caso, si chiamava cartello, non l'abbiamo rinominato, avete il vostro, la pianificazione del vostro viaggio, oppure se avete scaricato l'applicazione sul vostro telefono, potrete consultarlo direttamente dall'app, quindi sul vostro smartphone o sul tablet. Insomma, non avete più scuse, il vostro budget dovrà sicuramente essere rispettato. Allora non mi resta che augurarvi buone vacanze, io vi ringrazio e ci vediamo per la prossima lezione. Ciao!